Beh, ciao a te, peccatone perduto! Ti piace il sangue, la violenza e la depravazione di natura sessuale? Oh, paparino, io... Ti aspetti davvero che memorizzi tutte queste battute? Ma è ovvio, per questo sei all'inferno! Ma che ne diresti se io ti dicessi che c'è un posto dove alloggiare che non ha nulla di perverso? Benvenuto all'Asbin Hotel! Il tuo ultimo disperato tentativo di redenzione inizia da qui! Che ne dite? Dite un po'! Con permesso, che cazzo di roba è? Ah, sì! Appuntino! Questo è il luogo della seconda occasione e convinceremo il paradiso che un'anima dell'inferno può essere redenta! Salvi, signore! Vattene a fanculo! Non avete mai avuto un sogno chiaro Tanto da assaporarlo L'hai visto, cazzo? Che figura di cazzo, cazzo! Sento che di questo passo il mio cuore Ne auguro che quello che cerco di fare qui funzioni Ti sei fatta, cazzo! Tieni, bombetta! È la prima volta che... Porca droga, perché? Io sono pronta Lo sono ed a te... Abbiamo 24 ore prima che lo sterminio abbia inizio Mettiamoci al lavoro! Sto tremando ma se l'ora è giunta Devo essere pronta e lo sarò Periranno con tante pene, cazzo! Loro periranno! È la prima volta che noi siamo uniti e più che pronti Stavolta il paradiso se stilirà Pronti a combattere Sulle braccia insieme a me Se il fronte resta unito vincerà La guerra è dietro, l'angolo Se il fronte ci attacca Noi mangieremo, siamo pronti È ora che io faccia capire a tutti perché sono qui! Se io lo sono ancora non lo so Sono un losco figuro Manchevole di abbracci della mamma Ora, dove posso trovare un ragazzino innocente a cui vendere del crack? Che l'ha scritto? Grande teatro, eh? Continua!